Renzetto, uno dei personaggi più simpatici dell'intera manifestazione, quali sono le tue impressioni di questa manifestazione? La mia impressione di questa manifestazione è che in questo gioco di società ci sono molte persone, ci sono molto più conoscenze, tra un gioco e un altro, tra PES e FIFA c'è molta differenza perché i giochi cambiano e credo che io sto facendo un minimo risultato giustamente rispetto agli altri anni. Quindi evidenzi l'aggregazione e la differenza tra le due discipline, PES e FIFA, cosa pensi, che ambizioni hai nei confronti di questo torneo? La differenza tra PES e FIFA c'è molta differenza, in FIFA c'è molto il gioco, il gioco è molto più rallentato, invece PES il gioco è più veloce, ci sono molti scambi, molte fasce e il gioco è più veloce diciamo, dai. Grazie Renzo. Grazie.